è la riscoperta della storia praticamente quasi ci mettevano i finanziamenti guarda guarda è pieno di libertà archeologici qua almeno viene dall'archeologico qua c'è uno degli scavi è pieno 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 la cosa più strana che questo terreno questo sito ha abbandonato l'ingura è pieno 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 qui sopra qui c'è tutto un mucchio là c'è la cisterna qui sicuramente ci abitiamo ecco qui vedete proseguiamo da questa parte qui è chiaro che tutto questo frascame nasconde nasconde altro proseguiamo da questa parte si magnifico guarda mano in mano che si sente guarda quanti reperti è felici ce n'è un'infinità ma è molto molto strana questa è tutta abbandonata lì lì fanno andare questa altra parte proseguendo questa parte ora lì 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 lì